super sconto only fans e nuove fotine vi aspetto fate su ipad mamma mia allora raga oggi abbiamo fatto un'esperienza davvero bella fighissima non pensavo di vedere tutte quelle cose e devo scaricare tutte le foto a parte da postare ma proprio da mettervi vi ho fatto un po di foto del posto in modo da spiegare un po così se qualcuno di voi vuole fare una gita fuori porta senza andare troppo lontano stasera le scarico tutte e domani ve le metto piano piano ma dov'è il vlog?